Presidente Bozza, quella di oggi è una bella giornata anche perché viene annunciato il restauro della fontana che si trova dinanzi al Tribunale e che rappresenta una bellezza per la città di Pescara. Noi ci teniamo moltissimo, il Tribunale in prima linea in questa battaglia per il restauro della fontana, sono ormai due o tre anni che andiamo avanti, però adesso siamo a buon punto. Ci serve ancora una parte del finanziamento e per questo tramite il bonus art e questa conferenza stampa noi contiamo di raccogliere quello che ci rimane da raccogliere di denaro per affrontare la spesa che non è indifferente della fontana. È un grande maestro, una persona a cui eravamo molto vicini e quindi contiamo fermamente di restaurarlo in tempi brevi, così come già abbiamo fatto con i cerchi di pistoletto per l'opera dello stesso maestro Pistoletto, cerchiamo di farlo anche con la fontana. Oggi presentiamo in conferenza stampa la volontà dell'amministrazione comunale, del Tribunale di Pescara, quindi il Presidente del Tribunale di Pescara, di diversi imprenditori della Fondazione Pescara Abruzzo, di riqualificare la fontana del maestro Spalletti, un'opera d'arte che noi abbiamo al Tribunale di Pescara e che si aggiunge alle altre due opere d'arte di cucchie, di pistoletto. Quella di pistoletto è stata riqualificata, ristrutturata nei mesi scorsi e oggi puntiamo alla riqualificazione di questa meravigliosa fontana che è veramente uno spettacolo e che deve diventare un altro elemento culturale e artistico da rivalutare nella nostra città. Lo facciamo attraverso un'operazione di Art Bonus coinvolgendo gli imprenditori pescaresi e non, perché su questa fontana c'è l'interesse anche di soggetti al di fuori della nostra città e della nostra regione, perché è un'opera d'arte di un maestro conosciuto in tutto il mondo, quindi ci muoveremo con questo intervento, ovviamente partecipando direttamente come Comune, come Fondazione, con tutti gli enti che vorranno e con tutti coloro che vorranno investire in un'operazione culturale importantissima per la nostra città. Grazie.